Team Matrix è un ecosistema di applicazioni che consente ai docenti di generare gruppi di lavoro omogeneamente eterogenei e di misurare dopo ogni esperienza didattica, individuale e collettiva, gli atteggiamenti, le abilità e i comportamenti di ogni studente così da stimolarlo a migliorare le sue competenze trasversali, soft skill, attraverso un piano di sviluppo strutturato ed oggettivo. Come funziona? Con la web app Team Matrix, usando computer, tablet o smartphone, si possono generare gruppi di lavoro in tre semplici passaggi. Uno, si scelgono le caratteristiche a cui si vuol dar peso per generare i gruppi di lavoro nella classe. Due, si somministra il questionario agli studenti. Tre, si seleziona il numero di gruppi da generare e in pochi secondi si può iniziare a lavorare. Essere supportati efficacemente nella creazione di gruppi di lavoro è conveniente perché si ha un notevole risparmio di tempo ed energie soprattutto con classi numerose e perché il criterio di distribuzione degli studenti si basa su dati oggettivi raccolti dal questionario iniziale e non su un'interpretazione soggettiva. Perché è utile impostare un percorso di apprendimento didattico a gruppi e centrato sullo studente? Partendo da aula web, Team Matrix in pochi passaggi aiuta il docente a suddividere gli studenti in gruppi eterogenei e normalizzati, ad esempio in base al voto dell'esame di maturità, alla scuola di provenienza, alle proprie competenze linguistiche, alle aree di interesse, alle peculiarità del carattere e soprattutto alle priorità formative del corso. Inoltre impostare la didattica in gruppi di lavoro consente di gestire meglio l'affluenza nelle aule e di programmare con criterio l'alternanza di ogni gruppo nelle attività di laboratorio. Infine permette agli studenti di prendere parte ad una didattica esperienziale di teamwork strutturata in squadre con obiettivi, sotto obiettivi e scadenze prefissate, così come avviene normalmente nel mondo del lavoro. Cosa misura Team Matrix? Team Matrix è un software pensato per le aziende e sviluppato per le esigenze dell'università, che misura in modo oggettivo gli atteggiamenti, i comportamenti e le competenze di un gruppo di lavoro. Lo strumento di indagine è una griglia di osservazione dei comportamenti che viene somministrata su invito online ad ogni studente di ogni gruppo di studio, al termine di ogni sessione di laboratorio, lavoro di gruppo o team building. Il risultato dell'osservazione diretta di tutti i comportamenti del team diventa per il docente un grafico che rende leggibili le caratteristiche del gruppo di lavoro e la sua evoluzione nel tempo. Per lo studente due schede di feedback strettamente personali che forniscono un potente spunto di riflessione oggettivo sulle esperienze vissute durante il lavoro in gruppo ed uno stimolo di preparazione per le attività successive di formazione. Cosa misura nel lungo periodo Team Matrix? Al termine dell'attività Team Matrix produce in tempo reale, grazie alla lettura integrata delle auto ed eterovalutazioni dei comportamenti di ogni studente, un'immagine oggettiva contestualizzata della situazione presente di ogni competenza ritenuta strategica dal corso di studi. Se le attività di gruppo vengono programmate più di una volta all'anno, si ha la possibilità di confrontare i risultati di una singola esperienza con quelle svolte precedentemente. In questo modo lo studente tra un'attività e l'altra ha la possibilità di implementare un piano di sviluppo competenze personale. Così facendo si può favorire un processo di miglioramento individuale e ricercare un proprio percorso di miglioramento continuo, lifelong learning, dei propri comportamenti e quindi di quelli del proprio gruppo.